Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Metropolis. Come vedete mi trovo davanti alla NASA, la sede dell'Agenzia Spaziale di Metropolis. Tra qualche giorno nel mondo reale si festeggerà un evento davvero importante, i 60 anni dal primo sbarco sulla Luna. E qual è il miglior modo per festeggiare questo evento? Beh, organizzarne uno anche qui a Metropolis. Infatti io e altri fortunati oggi partiremo per questo viaggio e il video vi racconterà questa avventura. Quindi iniziamo. Ragazzi oggi ci sarà il grande evento, la partenza per la Luna. Mi trovo qui fuori dalla base spaziale ad attendere che ci diano istruzioni per capire dove andare e salire sul razzo ovviamente per la Luna. Il biglietto ce l'ho quindi sono pronto. Ragazzi sono o non sono un bel figurino? Guardate qua la mia tuta spaziale, è bellissima, è bellissima. Mi piace un sacco. Ragazzi io ho una passione per lo spazio, forse non ve l'ho mai detto e quindi questa cosa di partire per la Luna mi piace davvero un sacco. Raga non dovrei dirvelo ma mi hanno riservato un posto speciale. Ragazzi non vedo l'ora. Ecco mi hanno tippato, dove sono? Oh mio Dio. Allora ragazzi adesso riceveremo istruzioni quindi vediamo un po' che cosa succede. Vi tengo informati perché questa missione spaziale è più complicata del previsto. Allora ci stiamo spostando tutti non so bene dove. Io seguo la massa. Ragazzi abbiamo davanti il razzo che ci porterà sulla Luna, ovviamente molto simile al mitico shuttle. Ci troviamo ora alla base della NASA. Dovete sapere ragazzi che io ho visitato la base della NASA a Cape Canaveral quando sono stato negli Stati Uniti in Florida ed è veramente spettacolare. E tra l'altro sono riuscito anche a vedere lo shuttle da vicino perché avevano appena finito le missioni e pertanto era praticamente nell'hangar. Sono stato chiamato per primo, ci vediamo tra poco. Inizio a salire, inizio a salire. Dai andiamo insieme agli altri astronauti. Wow c'è tutta la scaletta per salire. Come i veri astronauti proprio salgono sulla scala ed entrano nel razzo mitico. Wow bellissimo bellissimo veramente fantastico. Adesso devo salire di qua. Mamma mia che percorso per arrivare su. Allora saliamo. Voilà. Perfetto. Eccomi qua. Sono pronto. Sono un po' agitato devo essere sincero. Vado ragazzi vado. Sto entrando. Devo salire immagino qua anche no? Io salgo. Sono qua al mio posto. Guardate vicino al finestrino così vedremo tutto quanto. Piano piano stiamo tutti prendendo posto con le nostre tute spaziali. Mi hanno detto di indossare l'elmetto solamente quando arriverò sulla luna. Quindi ricordiamoci perché lì l'ossigeno non ce n'è. A quanto pare 60 secondi al lancio ragazzi. 60 secondi al lancio. Quindi siamo pronti. Mancano davvero pochissimi secondi al lancio. Quindi allacciamo bene le cinture e teniamoci al seggiolino perché la partenza dello shuttle è abbastanza brusca. Quindi siamo pronti. 3 2 1 via. Allora questa dovrebbe essere la cabina con tutti quanti i seggiolini. Le persone stanno arrivando piano piano ma vediamo un po' che cosa succede. Quella che vedo fuori sembra essere la stazione spaziale quindi tra poco inizieremo a dirigerci verso la luna. Vi avevo promesso che sarei stato in un posto speciale sullo shuttle. Ebbene ci troviamo nella cabina di pilotaggio. Infatti per questa missione aiuteremo e saremo copiloti. Raga ma che cosa sta succedendo? Perché ci sono tutte queste esplosioni? Allora a quanto pare il capitano mi sta dicendo che stiamo passando una zona di turbolenza. Quindi teniamoci stretti perché qua incomincia a farsi pericolosa la situazione. Capitano è tutto posto. Spero che sia tutto sotto controllo perché qua ci lasciamo le penne altrimenti eh. Mamma mia ragazzi che tempo che fa qua nello spazio. Quasi peggio che sulla terra. Allora tutto sembra essersi calmato adesso. Quindi forse abbiamo passato la zona di turbolenza. Meno male. Infatti turbolenza cosmica passata. Siamo salvi. Wow. Meno male. Meno male. Meno male. Guardate guardate. Mamma mia. Siamo all'interno di una zona piena di meteoriti. Oh mio dio. Speriamo non succeda niente perché qua potrebbe essere ancora più pericoloso. Allora credo che il viaggio sia finito perché la navicella si è fermata ed è tornata in posizione verticale. Adesso dovremmo probabilmente attendere qua per le procedure di apertura del portellone e poi finalmente sparcheremo sulla luna. Ok ragazzi ho indossato il casco. Guardatevi come sono bello col mio caschetto. Fantastico. Veramente bellissimo. Mi sta per aprire la porta. Ragazzi si può uscire? Wow. Scendiamo? Scendo? Sarò il primo a scendere sulla luna? Ragazzi? Sì sono sceso un piccolo passo per steve un grande passo per il server di metropolis wow ragazzi c'è un altra luna lì no fantastico vi faccio vedere ragazzi guardate c'è anche la gravità modificata stanno scendendo tutti quanti tutti sulla superficie lunare no guardate quanti eravamo ragazzi è bellissimo è bellissimo non toglietevi il casco mi raccomando perché se togliete il casco non respirate più e morite ma gli oggetti volano ragazzi se lanciamo le cose volano ho lanciato la mia torta lì no è fantastico è fantastico ragazzi guardate adesso lancio questa e vola in aria adesso meteoriti che arrivano ogni tanto attenzione attenzione ragazzi è pericoloso qua arrivano tutte le meteoriti ci colpiscono e ci uccidono praticamente e questo attenzione un vortice enorme ragazzi ma ci sono delle cose che vengono sparati tutti in aria pazzesco pazzesco adesso ragazzi faremo un esplorazione del suolo lunare sarà rischioso raga c'è un attacco c'è un attacco io non ho portato armi qua stanno sparando oddio mi stanno uccidendo mi stanno uccidendo raga mamma mia aiuto stavo morendo oh 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 questi vortici distruggono anche mamma mia aiuto aiuto uscene uno proprio qui ci rompe il terreno raga è veramente pericolosissima questo questo pianeta ora esploriamo e si potrà morire attenzione attenzione io non so se sono preparato tutto questo è ma veramente dobbiamo entrare qua allora dobbiamo procedere all'interno di questa caverna però temo che ci siano dei pericoli qua in giro quindi dobbiamo tenere gli occhi aperti mamma mia ci sono i mob qua i creeper ma non è possibile aiuto aiuto raga un'avventura un'avventura questa caverna è davvero buia però credo che da questa parte ci sia l'uscita si dai si dai stiamo uscendo stiamo uscendo meno male dai perché tutti questi mob mi hanno messo una certa paura oh mio dio un esercito di creeper raga no no io non mi non vado lì è troppo pericoloso lì no dai dobbiamo cercare di affrontarli magari però senza morire sono amico dei creeper io eh ok 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 dai che possiamo tentare di colpirli ah sono morto ok mi hanno fatto risuscitare qui sulla luna perché altrimenti non avrei potuto più continuare l'esplorazione e quindi farvi vedere il video però quei creeper erano davvero pericolosi ne sono esplosi troppi contemporaneamente e sono morto ragazzi stanno combattendo contro i mob peggiori è veramente pericoloso però dai ci sta ci sta che tutti questi temerari stiano andando lì ad un certo punto mentre camminavamo sulla superficie lunare abbiamo incontrato questo canyon enorme una spaccatura davvero profondissima quasi paurosa adesso ci hanno detto di ritornare al bunker che c'è vicino all'astronave perché la nostra esplorazione per il momento è terminata a quanto pare tra poco ci sarà anche una diretta tv dove mi intervisteranno per sapere un attimino le mie prime impressioni su questa missione lunare come l'altra volta non posso mostrarvi tutta quanta l'intervista e nemmeno il servizio alla televisione che ho fatto però sappiate che ho raccontato un pochino tutto quello che è successo e le mie impressioni su questa fantastica avventura allora ragazzi a quanto pare le missioni sulla luna non sono finite perché il capitano ci ha appena detto che presto torneremo qui sulla luna ma in team e quindi faremo varie esplorazioni del satellite molto molto interessante questa cosa quindi se volete partecipare magari a queste missioni vedete sul server così potrete chiedere informazioni su come fare su come venire qua e ovviamente non poteva mancare prima di ritornare a casa una bella foto di gruppo qui sulla luna ok siamo pronti per il viaggio di ritorno finalmente ragazzi dopo questa lunghissima avventura siamo pronti il pulsante il pulsante magico è questo qui quello per tornare a casa a te l'onore perfetto vado fatto 20 secondi al lancio eccoci qui ritornati nella cabina di pilotaggio io spero che il viaggio di rientro sia meno turbolento di quello di andata salve sono tech del futuro ebbene il viaggio di rientro non è stato affatto tranquillo c'è stata ancora la pioggia di meteoriti e anche delle turbulenze abbastanza violente e siamo a casa ragazzi questo era il razzo sul quale ci trovavamo questa è la base della nasa e ora stiamo uscendo per tornare finalmente a casa ed eccoci arrivati alla conclusione di questo episodio che io ho cercato di condensare in poco più di 10 minuti ma vi assicuro che la registrazione è durata oltre due ore ci sono state però tantissimi tempi di attesa per le varie procedure di partenza vorrei anche cogliere l'occasione per ringraziare tutti gli organizzatori di questo evento perché sono stati davvero bravi il server l'altra sera era davvero pienissimo eravamo più di 160 persone se volete anche voi venire sul server di metropolis come sempre trovate il link in descrizione prima di salutarvi vi invito come sempre a lasciare un bel like e ovviamente ad iscrivervi al canale se è la prima volta che siete arrivati qui a questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio ciao